L'arrivo in Piazza delle Erbe dove ad attenderlo c'erano un centinaio di sostenitori con lo striscione basta spaccio a Padova. Matteo Salvini arriva in città per sostenere il candidato sindaco Francesco Peghine, cavalca il tema forte della Lega durante le campagne elettorali ovvero la sicurezza. Padova è una città straordinaria che non si merita di essere la capitale italiana delle denunce per spaccio di droga. È la città dell'università, dei giovani, dell'innovazione, della bellezza. Io spero che il 13 giugno quest'anno i padovani festeggino con un cambio di marcia, con un cambio di squadra in comune. Sono contento perché qualcuno a sinistra dava la partita per chi usa ancora prima di giocarla. Invece passano i giorni, cresce il consenso per la Lega, per Peghine. Il segretario della Lega risponde anche al prefetto di Padova, Raffaele Grassi, che in occasione delle celebrazioni del 2 giugno aveva detto che la città è sicura. Lasciamolo decidere ai padovani. Ripeto, essere, ahimè, prima in Italia per denuncia di spaccio di droga, vuol dire che le forze dell'ordine fanno un gran lavoro e le ringrazio. Ma vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi fossi nel prefetto farei meno dichiarazioni e più fatti. Salvini invita i padovani ad andare a votare il 12 giugno e a scegliere il cambiamento con la figura dell'imprenditore, candidato civico che rappresenta il centro-destra unito. Dopo aver criticato la parata di politici come Enrico Letta e Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi si erano visti a Padova per sostenere il sindaco uscente Sergio Giordani, è lo stesso Peghine che si è sempre professato un candidato civico ad accogliere in città i leader del centro-destra. Ieri sera Matteo Salvini, prossima settimana Giorgia Meloni. La differenza tra me e il sindaco uscente è che io sono un candidato civico supportato da un centro-destra compatto. Il sindaco uscente come primo atto che ha fatto quando è stato eletto cinque anni fa è stato quello di nominare come portavoce il segretario provinciale del PD. Quindi non si può più definire un civico una persona che ha nominato come portavoce e stratega il segretario del PD.